Musica Serata dalle sfumature giallorosse con delle nuance rosa quella di questa sera Perché? Perché? Buonasera intanto e bentrovati a tutti voi cari telespettatori Dicevamo perché? Perché parliamo di Bassano, parliamo quindi del calcio Bassano e parliamo anche del calcio femminile a Bassano Per addentrarci insomma in questi argomenti, in queste tematiche abbiamo qui con noi un graditissimo ospite Che ritroviamo Gian Antonio Tessarollo che è il responsabile del settore giovanile del Bassano Buonasera Gian Antonio Buonasera Alex Come ormai sanno perché è un teatrino che va avanti fra me e te da anni Perdonatemi se ogni tanto mi scapperà la parola mister perché noi ci conosciamo da tanto tempo Da quando proprio Gian Antonio Tessarollo allenava Quindi io ti faccio ringiovanire e i telespettatori a casa mi perdoneranno se ogni tanto mi scappa questa parolina Perché l'abitudine è quella Comunque detto questo tanta carne al fuoco perché? Perché parliamo di un settore giovanile importante Di un settore giovanile in crescita ma iniziamo con il focus sul calcio femminile a Bassano Un progetto che è nato, che sta crescendo nonostante le difficoltà insomma del periodo Il Bassano ha l'under 15 e ha tutta l'intenzione di attivare anche l'under 17 Sì, allora innanzitutto ti ringrazio un po' per l'assist nel senso che con l'occasione volevo ringraziare il nostro responsabile Che si occupa del calcio femminile che è Massimo Gastaldello Perché è stato lui un po' il fautore di questo progetto E quindi permettimi di ringraziarlo E poi permettimi anche di ringraziare i genitori che ci stanno aiutando in questo progetto E noi ci crediamo molto perché riteniamo che sia un progetto importante Anche perché diciamo appunto nel Veneto A parte le società professionistiche che lo fanno un po' Perché nel loro diritto siamo un po' gli unici noi che lo facciamo Ci crediamo perché quest'anno abbiamo fatto l'under 15 Stiamo facendo dei buoni risultati Anzi devo fare i complimenti al mister e alle ragazze E vorremmo diciamo nei nostri sogni Quello di riuscire a costruire anche un under 17 per il prossimo anno Numeri permettendo E quindi ci stiamo organizzando in questo senso A proposito di appunto numeri Parliamo un attimino proprio di questo Quante ragazze insomma ci sono che vestono la maglia giallorossa E soprattutto il bacino bassanese Perché sappiamo che ci sono altre realtà Ad esempio come Rosà che ha un progetto legato al calcio femminile Ma il territorio bassanese è recettivo Ci sono tante ragazze che vogliono giocare a calcio Guarda noi abbiamo iniziato Alex mi ricordo eravamo una quindicina Ad oggi siamo in 21-22 mi pare Quindi per noi è già un ottimo risultato E' chiaro che è difficile perché ragazzine che giocano a calcio ce ne sono poche Poi sai che molte ragazzine giocano con i maschi diciamo Perché fino a 14 anni la federazione gli permette di giocare E quindi non è semplice Noi adesso cercheremo Covid permettendo Nel primavera di fare magari qualche open day Qualcosa in modo da riuscire magari a fare qualcosa appunto per organizzare E poi ripeto Il nostro obiettivo è quello di dare la possibilità A queste ragazze di giocare a calcio E dare la possibilità anche di divertirsi e avere visibilità Come ad esempio al torneo del Ponte degli Alpini Del metà settembre, il 19 settembre E' stata una bella esperienza Bellissima guarda Innanzitutto per me è stato anche il primo torneo organizzato da noi E non è mai semplice perché sei sempre un po' in tensione Ma è andato tutto bene Abbiamo invitato tutte squadre professionistiche Cittadella, Padova, Vicenza E quindi è andato bene sotto l'aspetto organizzativo Direi che è andato oltre le aspettative anche sotto l'aspetto tecnico Perché siamo riusciti ad andare in finale Abbiamo perso con il Padova Il Padova sicuramente è una squadra più organizzata, più attrezzata Però ti ripeto Arrivare in finale per noi è stata una cosa un po' inaspettata Ma questo grazie ripeto al buon lavoro del mister e di tutte le ragazze Parlavi prima, Gian Antonio, del ruolo dei genitori Lei ringraziati, le famiglie Ecco, quanto le mamme e i papà stanno vicino alle proprie figlie e alla società, al Bassano Per portare avanti questo progetto? Sono fondamentali, al di là dell'aspetto logistico di portare all'allenamento Ma vedo che partecipano tutti in maniera molto importante Abbiamo fatto anche quest'estate scorso un torneo a Porto Recanati Per dirti siamo organizzati con un pulma Ma c'erano tutti i genitori Quindi è stata una cosa bellissima Perché vedo che si divertono E quindi partecipano in maniera molto attiva In questo periodo qui qual è la situazione? Allenamenti, covid, impegni ufficiali Insomma, come vi state attrezzando? In base chiaramente alle direttive della federazione Allo stop dei campionati e quant'altro In questo periodo siamo un po' difficitari Nel senso che da 21-22 siamo 13-14 Perché tra quarantene, isolamenti fiduciari e covid Ok, abbiamo un po' perso la situazione L'abbiamo sotto controllo Però siamo un po' a ranghi ridotti Però piano piano ci riprenderemo Anche perché tieni presente che il campionato femminile Che è a carattere nazionale Riprenderà il 6 febbraio Quindi siamo molto vicini alla ripartenza Assolutamente Allora, detto e parlato del calcio femminile Ci spostiamo a parlare di settore giovanile In generale, settore giovanile del Bassano Che come tutti gli altri settori giovanili Del nostro territorio Sicuramente vive un momento complicato Complicato perché? Perché è legato al return to play Legato alle difficoltà Insomma anche di avere i ragazzi a disposizione Proprio per quello che si diceva Quarantene, isolamento e casi di covid Partiamo proprio da una panoramica un po' generale Come vanno le cose nel settore giovanile Da questo punto di vista? Ma io sono molto molto contento Perché la stragrande maggioranza La percentuale di ragazzi che si sono vaccinati È altissima da noi Nel senso che abbiamo veramente Credo 2-3% che non si sono vaccinati Su 280 atleti Quindi io sono veramente felice di questo È chiaro che stiamo soffrendo un po' anche noi Il momento generale Che riguarda un po' anche la scuola Quindi quarantene, altre cose Però sotto l'aspetto vaccinale Io credo che abbiamo raggiunto Grazie ai genitori, grazie ai ragazzi Un ottimo risultato Gian Antonio, condividi la scelta Dell'obbligo di Super Green Pass Per gli atleti, i tesserati Che hanno più di 12 anni Oppure Insomma, sono tante le società Che fanno presente anche questo problema Dicono che la scuola non serve il Super Green Pass Invece per andare a giocare Magari a 13 anni Serve il Super Green Pass Questa discrepanza fra mondo della scuola E mondo dello sport Voi come la vivete? Guarda, entrare in questo campo Io credo sia veramente una cosa È un po' un campo minato È un campo Io stai molto attento Io ho l'impressione che E' quello che vorrei Che ci fossero delle regole Ben stabilite Ben precise Poi sai A non tutti Andranno bene queste regole Per cui noi ci adeguiamo alle regole L'importante è che vengono rispettate E che ci siano soprattutto E chiare La federazione ha riaperto Il mercato Il mercato per i dilettanti Anche per il settore giovanile Quindi per permettere Di andare a intervenire Su quelle rose Su quelle situazioni Un po' in difficoltà Dove magari appunto Giocatori che O non sono vaccinati Eccetera eccetera Sono costretti a rimanere fermi Quindi il settore giovanile del Bassano E' attento Sotto questo punto di vista Farà mercato Insomma ecco Ti devo dire la verità E' stata una cosa inaspettata Di questa riapertura Io sinceramente Sì Non ero Come si può dire Organizzato Nel senso Non lo so Se sia stata una cosa positiva Io non voglio dare giudizi Perché non sono Non sono la persona adatta Credo possa creare Un po' di confusione Secondo me Passami il termine Noi non credo Faremo nulla Di questo Di questa Finestra Di questa finestra Insomma Vediamo se ci sarà Qualche opportunità Però io Non sono assolutamente Concentrato su questo Parliamo invece di Insomma L'attività che riprenderà Fra poco I campionati che riprenderanno Fra poco Si dice sempre Che insomma Con i giovani Bisogna avere pazienza Che c'è un progetto A medio e lungo termine Però sappiamo anche Che insomma Il Bassano È una società Talmente importante Talmente gloriosa Come storia Insomma Qui nel territorio Che quando un ragazzino Veste comunque La maglia giallorossa Ha Un'ambizione Ha la voglia Anche di vincere Insomma Quali sono I progetti Per il settore Giovanile Del Bassano Nel senso Si punta più Alla crescita Più a Stabilizzare le cose Visto che insomma Parliamo di giovani Parliamo di Un progetto Che ha bisogno Di tempo Oppure Si punta anche Un pochino A guardare La classifica E i risultati Beh sai È normale Che la classifica Abbia un ruolo Fondamentale Noi puntiamo Anche molto Alla crescita Dei ragazzi Sicuramente E dovrebbe andare Di pari passo Con i risultati Che poi sono due cose Che vanno abbastanza Bene A braccetto Assieme L'unica cosa Che ti posso dire È che Io Ma anche I ragazzi La società Abbiamo tanta fame Di calcio giocato Perché è quello Che manca Secondo me Adesso Gli allenatori Gli allenatori In questa fase Particolare Sono due anni Che Insomma Tutto il mondo Dello sport Noi parliamo di calcio Di lettantistico Questa sera Comunque stanno vivendo Una situazione Di difficoltà Una situazione Anomala Forse Qualcuno di noi Si è dimenticato I famosi allenamenti Su Zoom Quelli che si facevano Addirittura Con Skype Con Insomma Su internet Da casa Nel periodo di lockdown E quant'altro Il ruolo Dell'allenatore L'importanza Dell'allenatore In questi due anni Qual è stata Insomma Per me È fondamentale Perché Oltre ad essere Un ruolo Di allenatore Io lo ribadisco Sempre Deve essere Un ruolo Anche di educatore Perché è fondamentale Stiamo parlando Di settore giovanile Quindi Sono ragazzi Che hanno un'età In evoluzione Quindi Un'età molto Diciamo Delicata Quindi doppio ruolo Di allenatore Educatore E noi Dirigenti Idem Dovemmo essere Degli educatori E dare loro L'esempio Sempre positivo Anche se è una parolina Che fa un po' paura Adesso Arriverà il giorno In cui potremmo dire Positivo Senza più dover Dover avere L'imbarazzo Di averla usata Chiudiamo Con Un'altra Riflessione Questa Non riguarda Il settore giovanile Ma la portiamo avanti Insomma Da un po' di tempo E quindi chiedo In questo caso A Gian Antonio Tessarollo Di non parlare Da responsabile Del settore giovanile Il Bassano Lasciamo da parte Il Bassano Da uomo di calcio Va avanti Da un po' di tempo Questa polemica Questa diatriba Fra società E calciatori Parliamo di prime squadre Per quello che riguarda La questione Rimborsi Spesa Nel senso I campionati Ripartono Un po' più tardi Quindi la stagione Si è lunga Di due o tre settimane E quant'altro Forse in alcuni casi Un mesetto Considerando un po' Recuperi, rinvii E quant'altro Ci sono alcuni giocatori Che dicono Beh sarebbe giusto Comunque percepire Un rimborso spese Anche per il mese di gennaio Visto che ci siamo Allenati Altre società Dicono È un momento di difficoltà È giusto Venirsi incontro Magari ci aspettiamo Un gesto Di Apertura Di Buon cuore Da parte dei giocatori Visto che le società Sono in difficoltà Nel non chiedere Il rimborso spese Per il mese di gennaio Da Ex allenatore Uomo di calcio Eccetera È giusto Pagare I giocatori Nel mese di gennaio Con i campionati fermi È più opportuno Venirsi incontro Oppure le società Dovrebbero Effettivamente dire No Questo mese I rimborsi Non vanno a nessuno Anche questo Alex È un campo Molto minato Ma domande È troppo facili Non posso farlo Sì Questo è vero Però io Che ho vissuto Anch'io Con tanti anni fa Il discorso delle prime squadre E' sempre stato un argomento Molto delicato Lì secondo me Deve essere un po' La dirigenza Che trova Per virgolette Un Che ne so Un accordo Con i ragazzi Secondo me Questo È la cosa importante Ecco perché ti dicevo prima Che la figura importante Nostra come dirigente È proprio questa Che deve essere quella Di trovare appunto Dei giusti equilibri In queste situazioni Perché sono molto delicate E allora Noi ringraziamo Gian Antonio Tessarollo Mister Visto che tutta la puntata Non l'ho detto Lo dico alla fine Mister Tex Per essere stato In nostra compagnia Anche questa sera Lo ritroveremo più avanti Nel corso della stagione Sempre un po' Per fare il punto Su quello che succede Nel settore giovanile del Bassano Grazie Grazie Alex Grazie Grazie a tutti voi E lo dico sempre Che ogni sera Ci seguite con tanto affetto Appuntamento a domani Poco prima delle 20 Con Sport in Casa